I vescovi italiani in assemblea, risanare un paese ferito, nelle parole del presidente della CEI l'attenzione al paese reale e ai temi della denatalità e del lavoro. La tragedia della funivia, ci sono i primi indagati per il disastro sul Mottarone dopo 48 ore accelerazione nelle indagini, presunte responsabilità legate alla manutenzione dell'impianto. Mai così basso nel 2021 il tasso dei contagi, 166 le vittime nelle ultime 24 ore, poco più di 3.300 i positivi. L'Italia spera in un'estate, tinta di bianco. Una piattaforma globale per combattere la povertà e prendersi cura del creato. Papa Francesco propone un cammino di ecologia integrale ad ogni livello della società. Buonasera, dal Tg2000 si è conclusa la seconda giornata della 74esima assemblea dei vescovi italiani. Il resoconto da Nicola Ferrante. 20 gruppi di lavoro, ciascuno composto da 10 vescovi pomeriggio di confronto all'assemblea CEI. In questo modo si anticipa il metodo sinodale, tema portante di cui mattinata ha parlato il presidente dei vescovi nel solco addetto di un lungo percorso della Chiesa italiana. La ricchezza di questa nostra storia conferma che la sinodalità come stile, metodo e cammino è perfettamente coerente con un percorso che abbraccia cinque decenni. Sui temi d'attualità il presidente CEI chiede interventi per la famiglia. Per risalire la china servono ovviamente gli interventi di carattere fiscale e amministrativo riassunti ad esempio nell'assegno unico, in via di implementazione per tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici. Sulla trasmissione della vita non sono accettabili soluzioni a ribasso, dice. È precisa la posizione della Chiesa su un disegno di legge contro l'omotransfobia. Ribadiamo come ci sia ancora tempo per un dialogo aperto, per arrivare ad una soluzione priva di ambiguità e di forzature legislative. Drammatici dati Caritas che riferisce sulla povertà, mezzo milione di assistiti in più in un anno di pandemia, 2.500 al giorno, ogni giorno 600 nuovi poveri, la maggior parte italiani. Ma la preoccupazione non è solo per il lavoro che manca. E a proposito di lavoro, chiediamo un'attenzione, perché questo avvenga sempre in condizioni sicure. Basta morti sul lavoro. Per dar voce alle domande di questo tempo sull'abolizione del blocco licenziamenti, in mattinata interviene in conferenza stampa anche il vicepresidente CEI. Non possiamo immaginare che questo avvenga di colpo, dobbiamo invece auspicare, anzi chiedere che avvenga attraverso una gradualità. Torniamo a Stresa per le indagini sulla tragedia del Mottarone, che ora si concentrano anche sui lavori alla Funivia del 20 maggio. Luigi Ferraiuolo. La soluzione del mistero del Mottarone sta tutta nei lavori del giorno prima alla Funivia. Infatti sabato 22 maggio la linea è stata ferma per mezz'ora circa, perché c'erano dei problemi di funzionamento. E la Procura ha deciso di sentire i tecnici a partire da quello che è accaduto sabato. E nello stesso tempo visionare tutti i filmati riguardanti gli interventi sulla linea. Si ipotizza che possano essere stati disattivati per errori freni, anche se i testimoni raccontano di aver sentito le ganasci in azione. Intanto c'è il rimpallo della proprietà tra gli enti. Il sindaco di Stresa nega di essere il titolare dell'impianto, gestito da una ditta privata. Quello che abbiamo potuto vedere e capire è che non c'è stato un evento solo, ce ne sono stati almeno due e questo è quello che ha causato la tragedia, perché sugli impianti a fune normalmente ogni evento viene previsto e ha una sua forma di sicurezza. La rottura delle funi traenti di una cabinovia è un evento molto raro. Accade quasi sempre per eventi esterni. I tecnici non ricordano funi tranciate per cedimento interno in Italia. Forse il paese con le regole più severe al mondo in questo settore. Intanto, mentre la procura ha aggiunto al fascicolo anche l'ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti, i morti del Mottarone sono diventati 15. Un operatore televisivo che stava eseguendo delle riprese sul luogo della tragedia ha avuto un malore ed è deceduto. Invece il piccolo sopravvissuto alla caduta dovrebbe svegliarsi domani. Il risveglio è partito e in questo momento la risposta del bambino è positiva. Comincia ad avere i primi segnali di risveglio, quindi con colpi di tosse ed alcuni momenti di respiro spontaneo. Ma in termini precauzionali stiamo andando con molta più calma e più attenzione, proprio perché la situazione clinica del bambino è critica. Il punto sul Covid, l'epidemia continua a rallentare ma tiene sempre banco la questione vaccini. Beatrice Possi Segnano un nuovo traguardo oggi i numeri dell'epidemia. Il tasso di positività è sceso all'1,3%, si tratta del più basso dall'inizio dell'anno, mentre sono poco più di 3.200 i nuovi contagiati e 166 le vittime. Supera quota 10 milioni e mezzo inoltre il numero degli immuni in Italia, un dato sopra la soglia europea che posiziona il bel paese tra i territori più sicuri d'Europa. Di vaccini e di Covid si è parlato anche a Bruxelles oggi, nel secondo giorno di riunioni del Consiglio europeo. I 27 leader sono d'accordo nel riconoscere il miglioramento dello stato epidemiologico, ma non è ancora il momento di abbassare la guardia, dicono. La campagna vaccinale prosegue spedita in tutta l'Unione e si ragiona intanto su come far ripartire il turismo. Il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sono d'accordo. Il certificato verde con lo stato di salute dei cittadini europei sarà pronto a metà giugno. Sono da definire ancora molti dettagli, tra cui la durata del passaporto vaccinale, ma la strada intrapresa è quella giusta. Più complicata invece è quella tutta italiana, sulla somministrazione delle secondi dosi nei luoghi di villeggiatura. Si lavora all'ipotesi di un domicilio temporaneo di almeno tre settimane con obbligo di iscrizione all'anagrafo sanitaria. Liguria e Piemonte hanno già firmato un accordo, Lombardia e Veneto sarebbero pronte a partire, ma sono tutti fermi in attesa dell'ok del governo. Ed è un successo l'opportunità di vaccinarsi in farmacia. In tanti hanno già prenotato la prima dose localicata. Le persone stanno raccogliendo molto bene l'invito di vaccinarsi in farmacia. Tutte le disponibilità che abbiamo dato per i primi giorni di giugno sono già tutte piene. Sono oltre 12.000 le farmacie pronte a vaccinare in tutta Italia. Un numero destinato a crescere, anche se non tutte le regioni partiranno subito. La Valle d'Aosta finora è l'unica ad aver incominciato. Il Lazio al momento ha aperto le prenotazioni registrando un boom di richieste. In sole tre ore, 5.000 i prenotati. Ci siamo organizzati con quattro aree di cui è composta la sede vaccinale. C'è una prima area che è il laboratorio, solitamente la farmacia, dove vengono dosati i vaccini, dove viene preparato il vaccino. C'è una seconda area che è l'area di accettazione, dove il paziente si regherà per fare la vaccinazione. Infine ci sarà un'area di attesa, di osservazione e di monitoraggio che durerà un quarto d'ora per ogni paziente. 600 le farmacie pronte e organizzate solo a Roma, mille nel Lazio, dove si parte il primo giugno. L'intenzione fa sapere Federfarma quella di riuscire a somministrare almeno 20.000 dosi a settimana. I farmacisti saranno pronti ad accogliere nelle loro farmacie i cittadini che per ordine e per fasce d'età potranno trovare nella farmacia un punto vaccinale, un hub vicino casa. Un servizio in più che darà un contributo importante alla campagna vaccinale. Le farmacie quindi si confermano un punto di riferimento per i cittadini che potranno prenotare per il momento solamente attraverso il sistema di prenotazione online della Regione. La politica, migranti, lavoro e ruolo dell'Europa. Il Premier Draghi ha tutto campo a Bruxelles. Roma intanto si discute sul blocco dei licenziamenti. Augusto Cantelmi. Come ho detto altre volte, il nostro atteggiamento deve essere equilibrato, efficace ma soprattutto umano. Quelle immagini di quel bambino, di quei bambini sono veramente inaccettabili. Non era nell'ordine dei lavori del vertice ma l'emergenza migranti non poteva restare fuori e Draghi si attende una collaborazione attiva dai partner europei già dal prossimo incontro. Draghi usa parole di condanna anche nei confronti di Bielorussi e Russia invita l'Europa ad avere più coraggio. Infine la politica interna con il decreto semplificazione e con il nodo blocco dei licenziamenti. Diversamente da ora, quindi, dopo il primo luglio non c'è più un divieto assoluto di licenziamento perché un'azienda che non voglia chiedere la cassa può licenziare ma c'è un forte incentivo a non farlo perché la cassa è gratuita. Un compromesso dunque quello avanzato da Draghi per sanare le divisioni della maggioranza. Settore per settore bisogna tutelare man mano che è in difficoltà, fino a quando, finché è in difficoltà. Provare una mediazione legittima di interessi tra le aziende che devono ripartire e lavoratrici e lavoratori che temono di perdere il loro posto è fondamentale. Per cercare di far ripartire il paese, sostenere le imprese, ma sostenere i lavoratori, evitare i licenziamenti. Un altro passo verso la verità sulla morte di Giulio Reggeni. Dopo anni di depistaggi è processo il generale Tariq e gli altri 007 egiziani. Secondo il giudice per le indagini preliminari, gli imputati avrebbero osservato e controllato direttamente e indirettamente dall'autunno 2015 alla sera del 25 gennaio 2016 lo studente italiano e lo avrebbero torturato ed ucciso per motivi abbietti e futili e abusando dei loro poteri con crudeltà. Il turismo è comparto strategico per la nostra bilancia commerciale. Durante la pandemia ha subito una pesante battuta d'arresto. Quello di fascia alta vale 25 miliardi. Ascoltiamo l'appello del presidente di Alta Gamma e le dichiarazioni del ministro competente Garavaglia. Il turismo è un settore fondamentale per il nostro paese perché includendo l'indotto diretto e indiretto vale circa il 13% del PIL. Il turismo di Alta Gamma ha un indotto particolarmente significativo. Rappresenta meno dell'1% delle strutture ma pesa per il 25% della spesa totale diretta e indiretta del turismo arrivando ad un valore complessivo di circa 60 miliardi di euro. È urgente definire un piano specifico che abbia come obiettivo un riposizionamento verso l'alto dell'offerta turistica italiana. Nel PNRR abbiamo messo fondi importanti, nazionali, internazionali con l'obiettivo di ammodernare e qualificare al meglio le strutture anche in chiave di sostenibilità ambientale e per orientare meglio tutta l'offerta turistica verso la richiesta di nuovi turismi di nicchia. Insomma, la fine del tunnel è vicina. Il turismo di lusso potrà e dovrà tornare a difendere il proprio brand d'eccellenza nel mondo, a promuovere l'Italia nel mondo. Concluso l'anno dedicato alla sua enciclica sul creato Papa Francesco lancia la piattaforma Laudato Si un percorso di sette anni per salvare il pianeta. Cristiana Caricato. C'è speranza le ferite della Terra si possono guarire. È il messaggio confortante che Papa Francesco fa seguire al nuovo drammatico appello per salvare il pianeta. Occasione la presentazione nella Sala Stampa Vaticana della Laudato Si Action Platform quella che è stata già definita la roadmap per salvare il pianeta. Un percorso in sette anni avviato a conclusione dell'anno speciale indetto il 24 maggio 2020 e dedicato proprio all'enciclica verde. Da tempo ormai questa casa che ci ospita soffre per ferite che noi provochiamo a causa di un atteggiamento predatorio che ci fa sentire padroni del pianeta e delle sue risorse e ci autorizza a un uso irresponsabile del bene, dei beni che Dio ci ha dato. Il Pontefice denuncia una crisi ecologica senza precedenti aggravata dalla pandemia e dalle sue conseguenze sociali ed economiche. Il nuovo programma operativo per far tornare la Terra alla sua originale bellezza vuole dare una risposta al grido della Terra e dei poveri ma anche proporre una economia ecologica, l'adozione di uno stile di vita semplice concentrando gli sforzi su educazione, spiritualità ecologica e impegno comunitario. Abbiamo una grande responsabilità, specialmente nei confronti delle future generazioni. Che mondo vogliamo lasciare ai nostri bambini e ai nostri giovani? Abbiamo ricevuto un giardino e rischiamo di consegnare un deserto, avverte il Papa che si rivolge a famiglie, diocesi, parrocchie, scuole, università, ospedali, imprese, aziende agricole, istituti religiosi. Tutti chiamati a soccorrere l'ecosistema al collasso, promuovendo un'ecologia integrale. Intanto oggi la notizia che Francesco potrebbe partecipare alla prossima conferenza sul clima in programma a Glasgow, Scozia, nel prossimo novembre. Ed è partita la missione in Medio Oriente del segretario di Stato americano Blinken a Gerusalemme, Ramallah, il Cairo e Dhamman. L'obiettivo è di consolidare la tregua raggiunta tra Israele e Damas dopo 11 giorni di conflitto. A Blinken, alla richiesta del premier israeliano Netanyahu, gli Stati Uniti non rinnovino l'accordo sul nucleare con l'Iran. La Casa Bianca contraria ad azioni unilaterali contro la pace, come colonie, annessione, demolizioni o compensi per i terroristi. Un anno fa la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano, durante un arresto a Minneapolis. Il filmato del fermo fece il giro del mondo scatenando ondate di manifestazioni antirazziste. Pierluigi Vito. Hanno segnato in maniera indelebile gli ultimi 12 mesi negli Stati Uniti, quegli 8 minuti e 46 secondi. Il tempo in cui l'agente di polizia di Minneapolis, Derek Chauvin, rimase con il ginocchio sul collo dell'afroamericano a George Floyd fino a causarne il decesso per soffocamento. Il tutto per un futile alterco in un supermercato. Era il 25 maggio di un anno fa. Floyd non era la prima vittima degli abusi delle forze dell'ordine, ma quel suo disperato appello, I can't breathe, non posso respirare. Quel lungo stilicidio verso la morte, filmato e circolato in rete, scossero le coscienze e la rabbia di una nazione già spaccata in due dalla presidenza di Donald Trump. Inevitabilmente seguirono scontri e disordini, non solo nel Minnesota, ma in tutto il paese, da Los Angeles a New York e a Washington alla protesta del Black Lives Matter ebbe il pieno sostegno della sindaca Murray Bowser come uno schiaffo al presidente Trump che continuava a insultare i manifestanti che chiedevano giustizia. E la giustizia è arrivata. L'agente Chauvin lo scorso 20 aprile è stato dichiarato colpevole di omicidio. La pena verrà stabilita il prossimo 16 giugno e potrebbe arrivare a fino a 75 anni di carcere. Sono solo sette negli ultimi 15 anni poliziotti condannati, nonostante migliaia siano gli episodi di abusi e violenze patiti da cittadini afroamericani ad opera di appartenenti alle forze dell'ordine degli Stati Uniti. Per volontà del neopresidente Biden è in dirittura di approvazione al congresso di Washington una legge che porta il nome di George Floyd volta ad aumentare il controllo delle amministrazioni locali sull'operato della polizia. Un atto che non riporterà in vita Floyd ma che si spera possa evitare il perpetuarsi di simili inumani soprusi. Ed ora la musica, due volte in gara a Sanremo il secondo posto ad amici ed ora per Giordana Ange un nuovo album con la partecipazione di Loredana Bertè l'intervista è di Silvio Vitelli. Ciao Giordana, come va? Molto bene, oppure tutto a posto? Speravi questo? E' tutto a posto, tutto a posto Tutto a posto Giordana Ange duetta con Loredana Bertè nel singolo che lancia il nuovo album della cantautrice italo-francese dal titolo Mi Muovo un concentrato di stili dal jazz al funky fino ai temi cantati nella lingua d'oltrealpe. Tante volte ci chiedono come stai e non dici sì, tutto a posto ma poi in realtà dentro ha il cuore e le ossa rotte come dice Loredana nella canzone. Loredana è esattamente come la vedi con me è sempre stata generosissima di grande aiuto sincera tanto Non mi sono mai aspettata dalla musica dei risultati e tuttora cerco di non aspettarmeli perché potrebbero venire a mancare da un secondo all'altro e questo non è una cosa che controllo io. Piedi ben saldi a terra mi sembra di capire. Tra le nuove proposte a Sanremo quando aveva solo 18 anni l'anno scorso tra i big e poi il secondo posto ad amici e di successi Casa e Stringimi più Forte una carriera in grande ascesa quella di Giordana non solo come interprete ma anche come autrice per se stessa e per gli altri compresi i più grandi della musica italiana. Il controprofessionale più fortunato beh sicuramente quello con Tiziano Ferro. Tra l'altro nell'ultimo album di Tiziano ci sono quattro due canzoni che sono tantissime in un album quasi un sodalizio artistico potremmo dire. Ho imparato tanto da lui lui ha proprio un dono nella scrittura e pian piano esercitandoti a scrivere riesci un pochino a tradurre i tuoi pensieri in parole che corrispondono veramente a ciò che senti e credo che forse lui abbia percepito questa cosa questa immediatezza sì che probabilmente è una cosa che a lui piace ci fermiamo qui vi lascio a TGTG grazie per averci seguito il TG2000 torna domattina con il flash delle 8.30 buon proseguimento di serata a TG2000